Siamo qua con Lorenzo, il comandante di questo bellissimo Suon 95 che ci presenta la barca. Allora, questo è il nuovo Suon 95, il primo della linea nuova 95. La barca è stata varata a fine aprile in Finlandia, siamo partiti verso fine giugno dalla Finlandia, abbiamo navigato quasi 5.000 miglia per arrivare in Mediterraneo fino a Malta. La barca è appunto un nuovo modello, è molto performante, è molto comodo in crociera anche. Sono Enrico Chieffi, vicepresidente di Nautor Suon e siamo qui sull'ultima nata della nostra produzione, lo Suon 95. Una bellissima barca, un bellissimo Suon della nostra categoria Maxi. Ormai da qualche anno la Suon è entrata in questo mondo dei Maxi Yacht con barche di grandi dimensioni, un po' tutta la nautica è andata sempre crescendo come dimensioni di imbarcazioni e noi non siamo stati da meno con questo Suon 95 e lo Suon 115 che sono le nostre in qualche maniera proprio ammiraglie. Questa proprio è stata varata qualche mese fa, è la sua prima uscita ufficiale, una barca bellissima, proprio nata per solcare gli oceani e per proprio poter navigare in completo comfort in una navigazione direi anche molto molto impegnativa. L'armatore di questa barca specificamente ha navigato portando la barca da Pietarsari, dalla Finlandia fino fino qui compiendo molte migliaia di miglia e di fatto ha come progetto quello di girare il mondo con questa barca di Suon, proprio nascono come barche estremamente belle, veloci ma sicuramente proprio fatte per navigare in mare aperto.